Sverniciatore Ambrosol Ciao a tutti! Lo sverniciatore Ambrosol è stato inventato per veri professionisti del settore. Vediamo ora come lavora un vero sverniciatore professionista. Svernicia! Lo sverniciatore Ambrosol toglie rapidamente ogni tipo di vernice da superfici metalliche e legno. Materiali come vetro, polietilene, polipropilene non sono sicuramente un problema. Predispone la parte lavorata per un nuovo trattamento lasciando la stessa ben pulita e priva di residui. Lo sverniciatore Ambrosol aiuta i professionisti del settore nel loro lavoro quotidiano. Un prodotto eccezionale! Ambrosol, un vero sverniciatore professionista. Alla prossima! Sverniciatina! Vediamo com'è, svernicia uno svero sverniciatore.